Musica Ah, che pace in questa foresta inesplorata! Il signor Bianchi? E lei? Si, sono io, perché? Non ha mai pensato di comprare uno strumento musicale, una batteria per esempio. Una batteria? Ma a me basta il suono delle vinoci di cocco. Si, ma con un po' di fantasia, provi a immaginare tanti suoni diversi. Allora, la compri? No, purtroppo ho rinunciato a tutto. Beh, pazienza, me ne vado, ciao! No, dove vai? Fermati, fermati! Da te compro tutto quello che vuoi! Ritornerò, ritornerò! Peccato che se ne sia andata. Ma sì, in fondo qui ho tutto, aria buona, cibi genuini. Cosa mi manca? Mi manca tanto la Peroni! Mi hai chiamata? Eccomi! Peroni! Bionda, fresca, spumeggiante Peroni. Chiamami Peroni, sarò la tua birra. E da oggi, bevimi dove vuoi. Sono così comoda, anche nel barattolo. Chiamami Peroni, sarò la tua birra. Chiamami Peroni. Grazie.